Signori, allora, il calcio mercato estivo è alle porte e ci sono già stati vari contatti da tutte le parti, insomma, di vari giocatori, anche molti della Serie A, per esempio Melinkovic, Savic, gente come Icardi, che ne so, Suso, quindi Ancelotti che sta rifacendo il Napoli, c'è già un gran casino prima che cominci il calcio mercato di suo. Soprattutto un nome caldo 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 che proprio lo sentiamo tutti i giorni, lo sta sentendo tutta Italia e soprattutto noi, Fiorentino, stiamo sentendo più di tutti il nome di Chiesa. Perché di Chiesa? Perché, ragazzi, Chiesa da quando è iniziato, cavolo, anzi, non da quando è iniziato il calcio mercato perché deve ancora iniziare, da quando è finito il campionato, puttana merda quante squadre sono arrivate alle porte di Firenze a bussare, a dire, oh lo voglio, io ti offro un monte di soldi. E la cosa bella è che all'inizio erano solo, mi sembra, Roma e Napoli che avevano fatto delle offerte allucinanti, tipo, mi ricordo che uno magari poteva anche tenere conto, insomma, di prenderle in considerazione perché, cavolo, mi ricordo un Napoli che offriva 50 milioni più due giocatori tra cui uno era Rogue, quindi non cazzi, insomma. E dall'altra, mi ricordo, una Roma con 40 milioni più è il Sharawi, mi sembra, quindi comunque c'è anche il Sharawi, non si sta parlando di pippe atomiche. Oltre allora adesso sono arrivati anche Inter, Juve, United, City e Liverpool. Eh, ora manca solo il Real Madrid, Barcellona, Paris Saint Germain, Bayern e poi siamo a posto, lo vogliano tutti. Ora arrivano anche gli Emirati, i cinesi, i russi, gli alieni, quiunque. A vedere quelle cifre lì, uno si, diciamo, si ingolosisce anche perché comunque dici, cavolo, sì, io, io non, allora ragazzi, io vi faccio sapere il mio, diciamo, punto di vista su chiesa, ecco, su se lo darei via o se non lo, se lo terrei, ecco. Io assolutamente pro, ma pro tanto di tenerlo perché comunque è un giocatore che tiene alla maglia, tiene alla città, tiene alla squadra, ai colori, è un giocatore comunque che ha sempre portato rispetto, è un giocatore che ci mette sempre la voglia tutte le partite, è un giocatore che ti accende le partite, te le risolve. Quindi, ragazzi, è giovane, va bene quello che vuoi, vale anche tanti soldi, però è un giocatore che ti cambia le partite, non lo puoi vendere. Un conto è se fosse, che ne so, un giocatore su un tubo, già come Higuain, ecco, io faccio un esempio, Higuain per esempio col Napoli alla Juventus, già Higuain, oppure Cavani, oppure, che cavolo ne so, Bonucci dal Milan alla Juve, è un giocatore già con più esperienza, quindi comunque o decidi di rimanere al club a vita, oppure se ti trasferisci fai un trasferimento da 90 milioni e magari cerchi altri lidi, come per esempio vuole fare Lewandowski adesso. Ma adesso che, per esempio, Chiesa ha 20 anni, deve cercare, secondo me, di crescere nella squadra in cui è, se te magari vai in una società già più grande, come era un pensiero di Verdi all'epoca, prima quando lo voleva il Napoli, rischi magari di non trovare spazio, perché magari davanti a te c'è quello, c'è quell'altro, perché sono più forti, perché hanno già giocato, perché sono già della squadra, per esempio, no? Quindi, insomma, questo discorso qua. Poi ho sentito delle belle dichiarazioni di Chiesa che dice che vuole restare, di Papà Chiesa che dice non andare via, insomma, resta ancora, hai ancora bisogno di crescere, Quindi, insomma, di sicuro probabilmente, anzi, molto probabilmente, di sicuro no, ma molto probabilmente Chiesa non rimarrà vita alla Fiorentina, ma comunque rimarrà, secondo me, legata ancora un po', perché almeno che non arrivi un'offerta di milioni, perché ormai i ragazzi siamo abituati, cioè, anzi, scusate, non siamo abituati. Se eri abituati, che le cifre erano alte, sì, ma non più di tanto, poi adesso, dall'estate scorsa, che sono sbucati 200, 100, 150, vedi i numeri, cifre incredibili e ti spaventi da solo, un, magari un giocatore come Maxi Oliveira, l'anno prossimo potrebbe valere 15 milioni, per capirsi. Quindi, vedersi un Chiesa pagato 100 milioni, una volta era dire, ma che cazzo stai dicendo, ma sei ubriaco, e adesso, invece, potrebbe essere anormale. Solo che tutti noi sappiamo che i nostri cari amici Andrea e Diego della Valle, maledetti, non spendano un soldino quando gli arrivano queste cifrone, o perlomeno, non è che non lo spendano, però, diciamo, reinvestano pochissimo di quello che magari hanno guadagnato, perché, comunque, sì, è vero delle volte, magari, soprattutto quest'estate, più o meno è stato reinvestito, non dico quasi tutto, però abbastanza della parte dei soldi con cui sono stati dati via, per esempio, Bernardeschi, Kalinic, Quadrado, all'epoca, Borca Valero, Vessino, insomma, tutta sta gente è stata reinvestita in parte, però non tutta, nemmeno quella. E la maggior parte dei soldi dell'Evo ha, tipo, i soldi di Marco Salosso, i soldi di Quadrado, poi, ragazzi, insomma, si sanno queste cose, quindi che cazzo le sto a ripetere. Non si spendono, quindi, cosa serve vendere Chiesa a 100 milioni e 70, poi ne reinvesti magari 20 per uno che fa la fine di Mario Gomez? Quindi, ragazzi, ricapitolando, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo trasferimento di Chiesa, se per voi vi andrebbe bene che magari possa andare via, se per voi è giusto che magari rimanga e cresca ancora un po' in squadra, fatemi sapere le vostre, se per voi è meglio guadagnare un pacco di soldi incredibili adesso e venderlo, e magari ricomprarti un altro campione, però se ovviamente, tanto non ci sei te, te che stai guardando questo video, non ci sei te che ci compri i giocatori, perché se no, ovviamente te li compreresti e anch'io li comprerei con i soldi che ho guadagnato, però c'è qualcun altro che in questo momento, o perlomeno ci ha abituato a vedere che i soldi non li spende, però vabbè, sono dettagli. Quindi, niente, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi a questo canale YouTube, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, un non mi piace se non vi è piaciuto, e niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!